Lo staff del sindaco a Corinti e la Messina Ambiente hanno scoperto all'improvviso come regalo della pre-vigilia di Natale di non poter più usufruire della discarica di Motta Sant'Anastasia. La giunta di Palazzo Zanca stamattina svolta una nuova seduta di lavori dove il futuro della Messina Servizi Bene Comune, che dovrà sostituire la società di nettezza urbana e liquidazione dal 1 gennaio, resta inchiodato al palo. Il governatore della regione siciliana Rosario Crocetta lo scorso 22 dicembre ha sbarrato le porte dell'impianto che ricade nel territorio catanese sotto il coordinamento della ditta Oikos per spedire l'immondizia indifferenziata nella discarica di Grotte San Giorgio. Con quest'ultima ordinanza la presidenza palermitana ha di fatto creato disagi a tutta la città che si trova sommersa dai rifiuti non solo i giorni festivi. Il risultato è un'ordinanza che ha scaraventato nel caos la raccolta della spazzatura e un'altra di proroga per la società interessata che fatica a materializzarsi. Mentre si tocca quota 3 con l'ennesima discarica cambiata in due anni, la collettività non sa più come tapparsi il naso per non sentire gli odori nauseabondi che emanano i cassonetti stracolmi soprattutto dopo le festività natalizie e come praticare lo slalom tra i sacchetti sparsi per strada oltre che nei bordi dei marciapiedi. Nell'ordinanza regionale dello scorso primo dicembre Crocetta già parlava della novità di conferimento rifiuti a Grotte San Giorgio gestito dalla Sicula Trasporti piuttosto che a Motta, ma nessuno dei vertici si è mosso per correre ai ripari. Lo smaltimento rifiuti è praticamente fermo e Messina vedrà anche al risveglio del Capodanno l'immondizia invadere il circuito urbano.